Buon pomeriggio, siamo di nuovo al Roma i Fidelity, oggi è sabato 27 novembre, siamo nella prima giornata di questa Kermess che è tornata dopo due anni di assenza e sono in compagnia di Roberto Verdi, Deus Ex Machina di Vrel, produttore di diffusori inconsueti e molto interessanti che mi piacciono molto, soprattutto per il suo impegno nel multicanale. Assolutamente, la ringrazio, la ringrazio che ha colto questa particolarità e questa nostra volontà di essere fermamente nell'ambito multicanale, ma anche fermamente nel multicanale professionale. Ok Roberto, ci racconta giusto per pochi minuti la storia di Vrel che magari i nostri ascoltatori non conoscono. Diciamo che io ho, diciamo, da esperienze pregresse per quanto riguarda la musica laddove veniva proprio prodotta, dove veniva realizzata, da lì è nata questa passione sostanzialmente audiofila, ma sempre in stretto contatto con quello, col mondo professionale, poi con il mondo pro, con quelle che sono esigenze, e con un bagaglio tecnico di errore di progettista elettronico e poi purtroppo anche, o meno male, meccanico per quanto riguarda, diciamo, altri approcci in quelle che sono state le mie aziende successivamente. Forte, diciamo, di questi bagagli e con le competenze, con quello che mi era stato, ovviamente, insegnato anche dalla conoscenza, dalla frequentazione, appunto, di un settore professionale laddove appunto venivano fatti registrazioni live e quant'altro, si è divanata appunto questa passione, che poi però comunque è rimasta un pochettino a servizio di qualche amico, qualche studio professionale e quant'altro. Dal 2018, una specie di salto, mio figlio che è con me in azienda e sostanzialmente mi ha comprato il biglietto per il Monaco Allende, siamo partiti e abbiamo fatto questo espluà, questa ribalta a livello internazionale, è andata molto bene, c'è stata una grande soddisfazione e da lì ci siamo detti probabilmente sarebbe il caso di non lasciare questi tipi di prodotti solo ed esclusivamente per pochi amici o per pochi, adesso mi rendo conto, e lo dico per pochi fortunati, ma cerchiamo di fare qualcosa a livello imprenditoriale, anche perché dall'altra parte avevo diciamo delle strutture adatte appunto per poter affrontare questo tipo del mondo proprio produttivo, è nato il progetto di questa linea di diffusori, che sono diffusori dipolari, quindi open baffle, e che però sono da subito nati come un tipo di prodotto. Ricordiamo che ci sono vari dipoli in giro, anche questa fiera, però hanno uno chassis chiuso con magari gli altoparlanti dietro, questo è proprio un dipolo vero, un dipolo puro. Qui siamo in presento proprio di un vero e proprio open baffle totale, con componenti dinamici, per poter fare questo, per poter avere le migliori prestazioni abbiamo costruito da subito gli altoparlanti all'interno dell'azienda, non avevamo la capacità, abbiamo acquisito OEM, parti esterne, eccetera, abbiamo iniziato ad assemblare i nostri altoparlanti con il nostro progetto e siamo andati avanti, siamo cresciuti per la verità in brevissimo tempo, perché i primi prototipi erano del 2014, nel 2016 già era tutto sostanzialmente pianificato, quello che ascoltiamo adesso nel 2021 è il progetto del 2016 sostanzialmente. Siamo appunto partiti da subito, è un po' una mia attitudine questa, io parto dagli imballi, progettualmente, definisco l'imballo perché io so che il mio prodotto deve poter arrivare nel migliore modo negli Stati Uniti, per cui parto da lì e quindi disegno tutte le mie attrezzature, tutto quello che produco, lo produco in un'implementazione che sia di largo respiro, appunto di questo motivo, per non creare problemi a nessuno nell'ambito di una distribuzione. Qui, vabbè, noi conosciamo già i vostri prodotti, soprattutto perché strizzano l'occhio al multicanale. Assolutamente. Le vostre installazioni sono state anche, soprattutto multicanale, ricordiamo anche l'ultima al Milano Fidelity, poche settimane fa, ma anche gli anni prima, e va bene. Certo. E qui invece a Roma, cosa c'avete, cosa portate qui? Qui a Roma non possiamo essere col multicanale per motivi di spazio. Mi verrebbe da dire che in realtà una specie di multicanale lo stiamo facendo perché siamo presenti in tre sale, per cui se mettiamo su sostanzialmente lo stesso brano siamo sul tre sale all'unisono. Ma qui in Fiera a Roma portiamo praticamente quasi tutta la linea dei prodotti Bequadro in questo momento sull'offerta stereofonica che però poi può essere arricchita, può essere ampliata e si può arrivare a un'offerta multicanale. Per cui abbiamo Bequadro 1, Bequadro 2 e la Bequadro 3 in due sale distinte. La mia sala, che è la Bequadro 2, cioè la Bequadro 1 e Bequadro 2, è una sala assolutamente provocatoria e sono nel migliore termine, non so se poi questo può essere detto, sono abbastanza talebano da questo punto di vista e quindi sto cercando di fare un certo tipo di guerra e noi diciamo che i diffusori, comunque sia, specialmente in questi tempi rappresentino l'80%, ma voglio essere buono, di quella che è la riproduzione e la resa acustica di un sistema audio. Ah beh, certamente, questo è chiaro, sono d'accordo. Per cui, per questo motivo, nella nostra sala la sto amplificando appunto con un sistema assolutamente consumer, per dare, diciamo, per dare questo messaggio importante ai eventuali clienti, ma ai visitatori, alla gente, ai giovani, che comunque voglio con prepotenza che si avvicinino a questo settore. Io nella mia azienda ho tutti i giovani, mio figlio, mio nipone, che sono qui in fiera, per cui c'è tutta una tradizione di gente giovane che sta seguendo questo settore. In particolare, quali prodotti stai utilizzando per amplificare? In questo momento stiamo amplificando nella nostra sala con dei prodotti Onchio Integra. Ah, ok. Quindi dei prodotti assolutamente... Consume, non high-end, diciamo? No, assolutamente no. Nelle altre sale abbiamo Tektron di ausilio con prodotti di eccellenza e conosciamo bene questo, questo marchio, assolutamente notevole. Ma nella nostra, nella nostra sala appunto, stiamo, stiamo alimentando appunto B4.1 e B4.2 con questo tipo, con questo tipo di prodotto tradizionale. Ricordiamo anche che, benché sono prodotti importanti, non solo come dimensioni, come prestazioni, anche il prezzo non è super high-end del vostro diffusore. No, assolutamente no. Anche questo è importante ricordarlo. Assolutamente no, assolutamente no. La nostra è un tipo di concezione aziendale, democratica, aziendale-democratica, per cui in primis abbiamo deciso che non c'è un prodotto di fascia bassa, un prodotto di fascia alta. Ogni nostro modello è un modello che rispecchia fedelmente e in pieno tutte quelle che sono le prorogative, tutti quelli che sono i capitolati, che sono diversi i capitolati del progetto B4, sia per il multicanale che per la semplice stereofonia. Detto questo, c'è l'altro aspetto, cioè di fornire un prodotto assai molto professionale, molto vicino al professionale. Per certi versi noi facciamo un prodotto che il tecnico, il progettista, chi si intende di questo settore, diventa molto molto difficile criticare il nostro prodotto. Per quale motivo? Perché da un punto di vista appunto di scelte tecniche, dei materiali e di quant'altro, c'è un attento studio su tutto quanto. Quindi andiamo in questa remetà dal produttore al consumatore o nel futuro di Vrel c'è anche una distribuzione? In Italia no, in Italia andiamo dal produttore al consumatore. Quindi diciamo... In apprezzare i negozi nel momento non è nei piani? No, no, credo, ritengo che non sarà mai nei piani. Eventualmente gestiremo con 5 o 6 sedi che sono nostre sedi gestite, dove abbiamo i nostri prodotti e vendiamo i nostri prodotti in Italia. Per quanto riguarda l'estero invece ci stiamo muovendo ovviamente, evidentemente, con dei distributori che però stanno seguendo appunto questa nostra linea di... questo tipo di approccio che appunto è... Quindi contenimento dei prezzi, comunque prezzi sotto controllo. Prezzi reali, prezzi reali. Ma al di là, quindi vabbè, estero ok, mercato italiano ovviamente diretto, ma se un... oltre alle fiere di settore, perché siete presenti qui, siete presenti anche a Milano, c'è uno dei nostri ascoltatori, uno dei nostri direttori che volesse che si incuriosisse e volesse ascoltare i diffusori di Vrelli, in questo periodo dove potrebbe trovare? In questo periodo li può trovare su almeno tre centri, presso tre centri in Italia, uno nella zona di Milano, poi ci siamo noi in centro Italia, abbiamo un'altra presenza in Sicilia e stiamo in questo momento anche consolidando qualcosa di simpatico per quanto riguarda la Sardegna. Ah, interessante. Diciamo che sono delle collaborazioni molto belle, molto appassionate, con gente che già ha il nostro prodotto sostanzialmente, evidentemente, per cui ci sta servendo. Sono gli ambasciatori del nostro prodotto. Interessante. Poi se ci darà qualche informazione, magari la potremo anche condividere su dove trovare i prodotti. Io la ringrazio ancora. A questo punto ci vediamo nella saletta, perché ancora ci è passato Franco, ma io non sono ancora venuto, quindi verrò a fare un bel ascolto insieme a Marco Cicogna tra poco. Perfetto. Bene, l'aspetto. Grazie. Gentilissimi. Grazie. Grazie. Grazie.